Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo, amiche 59 euro, è successo il delirio, parliamo di capotti tutti interamente foderati con doppio bottone, nelle tre varianti di colore la mia assistente indossa il rosso, sul tavolo avete il bianco crema, io sto indossando il cammello, bottone, parliamo di un capotto amiche che ha mandato in tilt tutti i centralini, 59 euro, corretta a confermare, bellissimo, dimmi Giorgi, saluti Patrizia da Napoli, un bacio, amica adesso succederà un delirio di nuovo al centralino, guardate che capotto pazzesco, parliamo di un'eleganza infinita, bottone doppio, cintura in vita, 59 euro, non aspettate confermate, sono uno più bello dell'altro, dovete solo scegliere il colore che vi interessa, sono elegantissimi, parliamo di un capotto lungo interamente foderato, una qualità straordinaria, nelle tre varianti di colore, rosso molto elegante, cammello che è un colore che quest'anno è ricercatissimo e bianco crema che non ho parole, bianco crema che non ho parole, voi chiedete se volete vederne uno, io ho indossato il cammello, ma quello che volete vedere indossato chiedete pure, perché noi siamo qui a vostra disposizione, 59 euro, bellissimo, tre varianti di colore, ma poi quando lo chiudiamo, mamma mia, è di un sexy, poi il capotto amiche è un continuativo che non può non essere confermato, eccezionale, prima richiesta dal centralino, bisogna riempire le borse Ciro, regalato e ritiro, ve lo faccio certo che ve lo faccio vedere, che colore, il bianco? Subito, sono colori pazzeschi e hanno una vestibilità favolosa, vai Marco, grazie, bisogna riempire quelle borse lì, guardate il bianco che cos'è, vi dico, sui cappotti come sui piumini siamo veramente forti, perché abbiamo cose che non passano assolutamente inosservate, quando vedi una cosa così c'è poco da dire, 59 euro, andate veloci come delle schegge, perché sono bellissimi, ritiro e vado avanti con le richieste delle mie amiche, vi chiedo amiche di farne quanto volete, perché mi aiutate, io faccio prima e vado mirata sulle cose che volete rivedere, no, no, inquadra al capotto Giuliano, bellissimo, rosso, panna e cammello, tre colori favolosi, prezzi incredibili a 59, altra richiesta per la signora, questa qua di nuovo è stata veramente ricercatissima, Milano-Roma 0203, parliamo del piumino stile Prada, bellissimo, va indietro, piumino stile Prada, favoloso, regalato amiche a 79 euro, è andato ovviamente a Ruba, 79 euro, bellissimo, un call importante, sì, qui no, nemmeno uno, qui nemmeno uno, se non guardate giù, l'unica cosa che ho dimaculato è il bomberino in pelliccia, allora amiche, favoloso, parliamo di un piumino bianco e nero pazzesco, chiusura lampo, call importante, 79 euro, prezzo a dir poco, incredibile, ma guardate proprio la vestibilità e lo stile, 200 di giro seno regalato a questa cifra, non aspettate, correte a confermare perché è stupendo, veramente delizioso, 79 euro per voi amiche, è ovvio che qui si parte senza pensarci un istante, perché a queste cifre un piumino così non ve lo fanno neppure vedere, favoloso, correte, 79 euro, prezzo di grande, grande qualità, piuma d'oca, ripeto, cerniere di chiusura delle tasche, tasche a scomparsa, regalata questa cifra con un collo importante che va a regalare ancora un'emozione, un'eleganza ad un prodotto che è già elegantissimo, favoloso, 79, anche questa è qui, guarda, mani, lì sotto ci sono le modello Gucci lì sotto, favolose, è bello amiche, è ovvio che suona tutto, sotto costa 79 euro, correte a confermare, attendete al centralino perché siamo già pieni di telefonate, grazie, siete uniche. questa è qua, vedi, mani. Grazie a tutti.